Ciao, siamo Vittorio e Angelo di VivaLaFocaccia.com, il blog con le videoricette semplici per fare il pane, la focaccia, la pizza e anche tanti dolci in casa. Un'entrata spettacolare, un inizio di video spettacolare. Oggi è arrivato un pacco misterioso e grosso dall'Italia. Adesso io e Angelo andiamo a aprirlo. Seguiteci! Siamo armati di avvitatori e vediamo cosa ci va dentro. Ho ricordato la posizione della plago? Vieni che si veda... Non c'è niente, non c'è niente Eccolo qua, il duettino, ragazzi, questo forno è uno spettacolo. Due piani, sotto ci fate la pizza con il fuoco e sopra ci fate torte, arrosti, qualcosa di... 3, 2, 1... Tadà! Tadà! Che bello! Mamma mia! Sì, abbiamo il cammino. È tutto bello fasciato perché non si rovini l'acciaio. Poi adesso lo togliamo. Qui ci sono le porte in vetro. In vetro! In vetro! Così puoi vedere dentro! Che bello! Che bello! Che figata! Bellissimo! Guarda, le sue porte... Così si vede ciò che mangiamo! Guardate, Angelino, come sei ingegnato, eh! A farlo scendere, poi che ha messo questo per coprire l'erba. Così poi andiamo lì e lo portiamo giù in fondo. Questi palli qua servono proprio per spostarlo. Diciamo che Alfa Pizza ha pensato proprio a tutto. Oh, è il spettacolo! Guardate che questa qui è stata veramente una furbata. Quella di Alfa Pizza. Una volta che è giù sulla ruota è facilissimo da muovere. È veramente facile. Eccolo qua! L'entrata ufficiale del forno Alfa Pizza duettino. In casa Viarengo. Viva la focaccia.com Lo copri proprio? Lo copro se vedi che ho un forno nuovo è geloso. Dobbiamo pian pianino farlo abituare, no? Ma chi? Il forno vecchio! Vedi che abbiamo le quattro pizze? Adesso per prima cosa copriamo il quattro pizze così non vede che c'è un altro forno se no è geloso. Ecco così non vede. Oh, madonna. Ecco la nuova casa del Alfa Pizza duettino. Aspetta! Che bello che è! È già un buon danno! Bellissimo! Vedete che bello questo adesivo sopra che si toglie facilmente. Se si blocca un po' basta scaldarlo un po' con il phon e così l'acciaio sotto rimane immacolato come da una fabbrica. Allora direi che l'assemblaggio è piuttosto semplice. Ci sono quattro viti da mettere sotto per reggere il piano di sotto. E loro tirano la loro chiave a brugola apposita. Facilissimo! Questo è il ripiano che va sotto. Adesso posizioniamo il piano. È pronto? Non vi dobbiamo neanche avvitarlo né nulla. Adesso bisogna mettere quattro vite e abbiamo finito. Veramente facile. No, finito no, ci mancano le pizze. Ok. Adesso veramente due viti per parte e abbiamo finito. Ecco qua, ci sono due viti, una lì e una la. Semplicissimo. Ed ecco l'ultimo pezzo, il comignolo. E poi, no, il penultimo pezzo, l'ultimo pezzo è il cappello del pizzaiolo. No. 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 C'è ancora un pezzo qua. Vabbè, adesso dobbiamo dare la notizia a quattro pizze che è arrivato un altro forno e cercare di consolarlo che gli vorrò ancora tanto bene e lo userò ancora tantissimo. Facciamo piano pianino, eh. Ecco qua. Fai amicizia col duettino. Non litigate, ok? Voglio bene a tutte e due, facciamo la pizza sia qui che qui, d'accordo? Ed ecco qui il nostro fantastico forno duettino dell'Alfa Living. Un forno flessibilissimo perché avete il forno a legna di sotto per fare la pizza e altre lecorgne. E sopra un'altra camera per cuocere dove potete fare pietanze, torte, dove non c'è la fiamma viva per cui avete sia le caratteristiche del forno di casa che del forno a legna. Veramente fantastico. Non vedo l'ora di provarlo con tantissime nuove ricette che troverete sul mio blog. Viva la focaccia.com Ciao! 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 Siamo Angelo! Oh che carini che siete proprio! Ciao! Ciao siamo Vittorio e Angelo di VivaFogaccia.com dove trovi tante ricette viabba ed abba ed abba. Oggi apriamo una scatola! domanda! Vieni qua! Ecco qua quello che è rimasto dopo l'unboxing del forno duettino della Alfa Pizza. Anzi vediamo un po' in ordine va. Ecco qui il nostro fantastico Alfa Living duettino Po. ecco qui sono... Anzi vediamo un altro unico ques… ecco qui…